La tecnologia chiaramente ha fatto passi da gigante perché ha messo a disposizione degli strumenti in grado di gestire delle moli dati che una volta sarebbero state completamente inimmaginabili. Macchine sempre più potenti, disponibili quasi come commodity, si pensi soltanto al telefono che abbiamo in tasca ogni giorno che ha potenze di calcolo che una volta erano su dei super computer e abbiamo a tutti gli effetti macchine che gestiscono dati di altre macchine in un crescendo perpetuo che si alimenta all'infinito. Quindi solo la capacità di processare questa grandissima molle di dati e interpretarne correttamente i comportamenti può permetterci di prendere delle decisioni tempestive. In questo senso l'intelligenza artificiale può venirci davvero incontro. Perché? Perché molle dati che può gestire una piattaforma di intelligenza artificiale è sicuramente molto più grande di quella che può gestire un uomo e soprattutto la velocità di correlazione delle informazioni è molto ma molto superiore a quella che normalmente riescono a gestire gli uomini. In particolare l'applicazione ad alcuni scenari che sono proprio quelli legati alla gestione del dato, alla sicurezza del dato, apre delle possibili logiche di utilizzo. Al prossimo anno Grazie a tutti.